impiegato lei conosce il nostro ambasciatore di germania il conte otto fong iuber steiger puoi chiamarmi solo otto no no almeno nove e dieci undici dodici alla fine la spunto a fantozzi trenta e nove i bicchieri cinque calici sfasati sulla sinistra altri cinque sfasati sulla destra da quale parte bene ma non è